In questo tutorial vedremo come recuperare la password per accedere alla piattaforma SapereCop di CoppAlleanza 3.0. Andiamo a cliccare Prenotazioni. Da qui semplicemente clicchiamo il bottone Accedi. A questo punto per recuperare la nostra password semplicemente clicchiamo su Recupera la password ed inseriamo la nostra mail associata alla piattaforma SapereCop di CoppAlleanza 3.0. Clicchiamo quindi Conferma. Perfetto, la piattaforma ci comunica che ci è stata inviata una mail. Guardiamo allora nella nostra posta e in effetti verifichiamo la mail che ci è stata inviata con una nuova password da oggi disponibile. Grazie. 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 Grazie.